dedicata all'oculistica. Ciao Marco. Ciao Danilo, come stai? T'apposto? Bene, alla grande, ho sempre l'occhio in primo piano, ma oggi vorrei parlare con te di allergie, perché il problema è che le persone allergiche possono soffrire di congiuntività allergica. La domanda che mi sorge spontanea, che poi tutti quanti ci fanno, ma se trascuriamo questo sintomo, queste problematiche, possiamo andare incontro a problemi più gravi? Sì, allora questo è il periodo dell'allergia effettivamente. Molti pensano che l'allergia sia un problema, alle volte solo cutaneo, solo respiratorio, ma anche gli occhi, in particolare la mucosa oculare, la congiuntiva, può essere interessato da un processo allergico. Ma spieghiamo prima che cos'è un processo allergico, senza entrare nel tecnico. E' una risposta infiammatoria anomala, quindi non positiva, non finalizzata a combattere un'infezione. E' una risposta anomala a un agente esterno che diventa causa della risposta allergica. A livello oculare i sintomi sono, come molti sanno, la lacrimazione, il fastidio alla luce del sole, sino anche a un finto calo della vista, in quanto una congiuntività allergica molto grave, molto importante, può anche portare a un disagio visivo, quindi le persone vedono e percepiscono male. Ecco perché è importante non sottovalutare i sintomi, ma iniziare un corretto approccio terapeutico sin dalle fasi iniziali. Molte volte il paziente allergico già sa il periodo in cui inizia ad avvertire i sintomi e già inizia delle terapie o consulta lo specialista di fiducia. Per fortuna, da un punto di vista oculistico, abbiamo un po' di armi a disposizione, però molte volte va fatta una terapia personalizzata, perché ognuno di noi ha una risposta, può avere una risposta di intensità diversa a quello che è uno stimolo allergico, per cui è importante fare una terapia altamente personalizzata, come andare dal sarto. Quindi in questo caso, se abbiamo questo tipo di disturbi agli occhi, bisogna rivolgersi sempre all'oculista. Assolutamente sì. Ok. Io ti ringrazio, grazie per il tuo tempo. Grazie a te, Danilo. Mi piace e condividete il video. Ciao a tutti.